Obbligo vaccinale, qual è la posizione del sindacato Frascari? Noi abbiamo contezza che la scuola deve ripartire senza la DAD, perché insomma abbiamo una situazione, i dati sono chiari e per fare questo ci sta solo una possibilità, che ci sia il bangiornuro di persone, sia docenti, non docenti, sia alunni vaccinati. Ora, uno potrebbe dire sì, l'alternativa sarebbe trovare degli spazi adeguati, come abbiamo detto anche nello scorso anno purtroppo, e questo sarebbe un'alternativa, ma è un'alternativa teorica, perché da qui a due mesi io non credo che con tutta la buona volontà, anche se ci fossero i fondi. Bisognerebbe fare quello che non è stato fatto in un anno? Non è assolutamente, secondo noi è possibile. Considerando che la fascia di età vaccinabile degli alunni è da 12 anni in su, anche se lì ci sarà sicuramente una campagna forte di convincimento, però rimane fatta che c'è poi una fascia che non potrà essere vaccinata per ragioni sanitarie. Rimane allora una sola cosa, cioè cercare assolutamente di vaccinare il più possibile il personale. Lo sappiamo tutti che abbiamo, per esempio in Abruzzo, più di 2.000 tra personale docente e non docente, o che non hanno completato il ciclo vaccinale, o che non hanno fatto nemmeno la prima dose. Si tratta di una prima fase sicuramente di convincere, diciamo... Opera di persuasione. Opera di persuasione, che va fatta in ragione di un principio di socialità, cioè la coscienza ci dice che dobbiamo farlo. Molti lavoratori della scuola non hanno fatto il richiamo con AstraZeneca. Perché? Perché c'è stata una campagna, secondo me, di informazione errata, nel senso che si deve informare il pubblico, sì, però quando si punta a ripetere, a ribadire le stesse cose, come se questo vaccino avesse ucciso milioni di persone, mentre invece ne ha salvati diversi milioni, sostanzialmente non si è fatta un'opera proprio perfetta dal punto di vista dell'informazione. Se noi superassimo, a livello regionale, il 95-96% del personale vaccinato nell'ambito scolastico, potremmo dire che forse ci possiamo anche accontentare, insomma, così dice la scienza. Ma se non dovessimo arrivare a questo, o nelle regioni dove non arriviamo a questo, che cos'altro si può fare se non dire alle persone, mi dispiace, vi dovete vaccinare. Non è una questione di obbligo, è una questione di realtà.